BATMAN ARKHAM 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 Sotto Devo passare sotto Questi pannelli di sicurezza della Wintek Sono usati in tutta Blackgate Ma la colpa C'è qualcuno che c'ha qualche arma Una barriera improvvisata Ma la mente è fissata Io gli vado addosso a quello là No Vaffanculo Volevo sentire addosso a questo Uccidi Uccidi No Non subirò più calci Quanta gente viene Allora No Tu Devi cadere per terra due secondi Intanto che quello là è scomparso Ti spaccola i denti a te Va bene Che a te i denti non servono Perché Ci siamo capiti Usiamo Sequence 0 E' questo Oh 0 2 c'è Quattro Quattro Questo Cioè io devo andare a fare i campionati mondiali Di sequenziatori Di De Di Criptografare Cazzo c'è scritto qua Awards Avanti E vincerei proprio il mondiale di Sequenzia Sequenzializzazione Criptografata Lo vincerei sicuramente io Oddio Tu Visto Mi cazzo ne ero una anche qua Eh No Te Vai a f*** Culo Via 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 Wow 10 su 20 Non ci ha fatto stoppare 10 Mamma mia Non posso andare di lì No Andiamo su di qua Se non posso sotto Si va sopra Mi sembra Analisi in Guatemala Ascensore E' gravamente dannezzato Dannezzato E per Pende da cavi loguri Ah E quindi Eh Ne posso tirare una botta Ho capito Ah Il pannello è fissato con elementi raggini Fazzia la rompe Lanzandomi contro un oggetto Tipo Così Oh E si va su Do cacchio sono Ah Tipo adesso Spacco i cavi Ok A parte che posso scendere di qua No Cioè Poteva scendere anche di là Però Vai giù Muoviti Vai giù Oh Ci faccio quello io Eh Cioè Scuola Scendere di qua No Va bene Ok No 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 Ok Ok Va bene Va bene Va bene Va bene Se Ok Perché Ma ha fatto sto cambio Vedi Tieni premuto Di qua non posso andare Arribunzona Lei Quindi quello di là È tipo Y Y Perché no Porca non riesce lì Y Quando devo uscire Cazzo Che tra l'altro Mi sa che è anche uscito Prendo Oh 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 No 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 Ma devo andare di qua Di Ah Eh Andare lì In Svizzero Porta chiusa Elettonamente E dall'altro Lato Ah 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 Devo andare giù Di qua Cacchio Potevo fare Anche senza Z No Dovevo uscire Lo stesso Dovevo uscire Vieni avanti Cretino Però se mi salto Fuori l'Ips Dai Perchè non esce Oh Spaccagli la faccia Lì Mannaggia Cioè Qua se deve uscire Y Deve uscire Y Muoviamo qua Il mouse Sennò dopo le bolle Ci Invaderanno Lo schermo Allà Tetto Ho già visto E Se vado avanti Ancora un pelino Oddio mio C'è ne una Anche là sopra Aspetta che mi Posso un attimo Aia Perchè quelli lì Serve il rampino Mi sa che andiamo A prendere adesso E la miseria Ah Dai dimmi che c'è il rampino Sì Sicuro Sicuro Ragazzi C'è per forza Perchè anche perchè Oh E batartiglio Che cavolo Per fortuna Ok Con su Perchè Quello che mi intendo Io che faccio Così Continuo E mi tira giù Le grate Oh Io adesso Per non saper Ne leggere Ne scrivere E ne Di qua sicuro Si torna indietro Perfetto Di qua Si poteva fare Anche qua Quindi Tiriamo giù La grata Anche se Non sarà grata Di quella Capito La grata Tiro giù Anche se Ok Qua c'è un altro Regalino Il peggio Mamma mia Il peggio Cazzo E qua ragazzi miei Rinforzo Corazzo Componenti usati Per rinforzare La carazza Della tuta Batman Assorbe Il 50% Di danno In più Per ogni Quattro Raccordo Quattro Parti Oh che buono Non ho visto Cosa è uscito Ok Perfetto Ho fatto bene A tenderti qua E mo se torna indietro Non è che si può Fare Tanto Eh Maremma Maia Torniamo in Drio E buttiamo giù qua Se bello Uccidano uno Con la grata Che cade Scemo Quindi adesso A rigor di logica Qua si va su Fortunatamente abbiamo Quella Quella Ah Eh Però Vabbè Quindi direi di tornare indietro No Di qua T'ho detto di qua Imbecile Anticipate Ok No Madonna Santa Cadi E andiamo di qua Alla ricerca di nuove grate Cadi Oh Però E' caduto L'ascensore E le balle E' caduto L'ascensore E le balle Quindi Allora A rigor di logica Dobbiamo tornare Là sopra E con L'artiglio Dovemo tirare Giù quella cosa Là Esattamente Così Oh Finalmente Esso sarà Tutta un'altra storia Con sto cazzo Di Pino Schifoio Ah Buono In questo caso Porta dannezzata Ehi Due di cinque Buono Eh Anche le porte Non bisogna ucciderle Porta di una stazione Delle guardie Le ammaccature Suggeriscono Che sia stata dannezzata Spalancata Da diversi aggressori Ah Ok Non è quella Che ho spaccato io Perfetto La idea di andare Qua dentro Adesso mi cade Il sicuro No Eh Maginass Ah beh Era soltanto Per passare Ok Ok Qua non c'è niente No Lo sapevo che mi volavano addosso Quei pinguini Schifosi Oh Tale fa Prima Adesso No Fuori Ma porca miseria Blocco C Blocco C Di domodossola Grandi Chi chiede Che io chiamo Perché non mi va Internet E mi chiedono Il tutto Eh Sì mi potresti Di qua di là E devo fare Lo spelling Cioè chi ti dice Di fare lo spelling Del tuo nome Del tuo cognome Con le Con le città Vabbè Ho la tavola pesante Allentata Poi ce le tirate giù Oh Però te pinguino Fai una brutta fine Ne mancano quattro Allora Io mi sposto Perché Mi sa che adesso Burla giù tutto Anfatti Bolle Vaffanculo Che cazzo Di rimbalzo Fatto Ma vabbè E devi Ripassare Un attimo Di qua Perché è sicuro Che c'è Che è sicuro Che c'è Stangazzo Sbloccata Ah Apri Ok Oddio Però vorrei andare A vedere là Se c'è qualcosa Di interessante Vi faccio vedere Se no Vado avanti Di qua Allora Cioè E infatti Che ti ho detto Caso te Zabatta Da prigioniero Ah beh 3 di 5 Buona Rotta di collo E mica Quello della porta Esattamente Ne manca Allora Turner Una zabatta standard Da prigioniero Con nome Turner Scritto Appennarello Sulla fascetta Vabbè Facciamo anche I cosi Quelli che vendono Le scarpe Non mi viene Il termine Tecnico Allora Allora Domani Domani mattina Porco E ma c'è un coso Ah ok Un lancio scoperto Fissato a un muro Strutturalmente Debole Quindi Chi è Quindi Non è niente Zitto Grande coglione Eh Potta Found Se Mi vieni sotto Le mie Scrinfie Ti tiro Un cartone Ti tiro Un Un Dragonball Ti tiro Allora La Vi dico Subito Che Ragazzi Ci vediamo Al prossimo Episodio Spero Anche Questo Episodio Vi sia Piaciuto Vi dico Subito Che Nelle Prossime Settimane Forse Ci saranno Nuovi Cosi Aggiornamenti Anche Se Sono Piene Le balle Degli Aggiornamenti E forse Cambierà Qualcosa Vi dico Solo Questo Per quanto Riguardo A consegne I miei Video Sempre Su Video Gioco Allora Vi saluto Vi aspetto Al prossimo Episodio E Ciao A tutti